Enzo tagliala, vedi come te lo dico? Che t'ammazzo! Enzo sparisci! Enzo sparisci! T'ammazzo, sei morto! No ti prego tagliate questa... Enzo non ci sto, Enzo non ci sto con la testa, ti voglio bene, Enzuccio! E ma chi ci sta con la testa stasera? Qua barri che ti retta! Siamo tutti fuori, siamo tutti fuori! Enzo, no ti prego, Enzo ti prego che non ci sto, ti voglio bene! Non guarda Enzo, ci giriamo un po'. Masta, vieni a fare... Ok, Enzo sparisci dai! Taglia! No, non toglie niente, qui non si taglia, qui si aggiunge soltanto ma non si taglia. Quindi posso morire? No, perché devi morire così? Vabbè, rifai la domanda, dimmi prima che devo rispondere. Allora, stai sera, prima si rada, il primo aperitivo al Bar Verdi e dopo questo grande cambiamento, come lo vedi? È morto. Ma chi? Chi sta guardando? Come lo vedi questo cambiamento, questa novità? Un attimo cambiamento! Novità? Eh, se continua così, penso che sia una cosa bella per Salerno. Tagliate questa scena, cazzo! Parliamo un po', dai, non ti vergognare. Siamo così vicini, vicini, dai. Possiamo tagliare perché sono inceppata e nervosissima, ti voglio bene. Dimmi che devo dire, che lo dico e ce ne andiamo via. Non riesco a parlare perché sto male, poi ti spiego, però toglietemi questa telecamera. Vabbè, allora cambiamo il discorso, parliamo un po' degli uomini, ti piace questo? Ma va, sei in diretta? Ma siamo in diretta. Oh merda! Quindi adesso è registrata, quindi potete tagliare tranquillamente questa scena. Sì, sì, non ti preoccupare, tu tanto parli, noi parliamo e poi si taglia, non ti preoccupare. Enzo, tu sei morto domani. Parliamo un po'. Enzo, domani sei morto. Ma Enzo non c'è, dove stai? Enzo è sparito. Ci siamo solo noi due. Comunque domani tagliate sta cazzo di scena perché va a marzo.